Questo potrebbe cambiare per sempre il mining di bitcoin. Vediamolo. Che il mining di bitcoin sia sempre stato un pochino sotto i riflettori per mille motivi Questo è appurato. È energivoro, ok, ma è anche centralizzato. Infatti una delle cose più discusse Nell'ambito delle crypto, nell'ambito in particolare di bitcoin, sta proprio nella centralizzazione eccessiva Dei miner. Il miner che cos'è? Sostanzialmente sono risorse di calcolo, potere di calcolo Che va a validare le operazioni, le transazioni sulla chain, in questo caso di bitcoin E creare nuovi bitcoin e metterli in circolazione Ora, una rete decentralizzata è una rete in cui ci sono tanti nodi, tanti miner All'inizio era così, man mano che però è diventata insostenibile Perché richiede software specializzati, perché richiede un consumo elevato di energia Il mining di bitcoin si è centralizzato E questo mette un pochino a rischio l'intera idea di decentralizzazione di bitcoin Perché andando a centralizzare il mining, cioè le risorse che vanno a validare E le risorse che vanno a creare nuovo bitcoin, nuova valuta Diciamo che non è proprio il massimo in ottica di centralizzazione C'è però una spinta nella community di bitcoin nel trovare invece soluzioni di mining Sempre più decentralizzate E su questo, notizia di qualche giorno fa Jack Dorsey, l'ex CEO di Twitter Ha investito 6.2 milioni di dollari in una pool di mining Con l'obiettivo di rendere proprio il mining il più decentralizzato possibile Quindi tirar via un pochino di potere da queste risorse centrali nel mining E appunto distribuirlo con quello che è OSEAN Un progetto che dovrebbe, per quello che vediamo, democratizzare un pochino di più il mining di bitcoin Dando così il via ad una nuova era su bitcoin O meglio, tornando alla vecchia era, quella iniziale di bitcoin In cui si poteva minare da un computer Portare appunto il mining di bitcoin ad un altro livello Un livello in cui è possibile fare mining ed è possibile farlo in modo più decentralizzato Quindi togliamo un po' di ciccia da chi ha già il controllo sostanzialmente sul mining Perché oltre il 40% del mining è in mano a una manciata di aziende di miner Diciamo non è appunto il massimo in ottica di decentralizzazione Ma con questa manovra probabilmente si potrà andare a togliere un po' di capitali da lì E andare invece a focalizzarsi su soluzioni un pochino più decentralizzate Che saranno sicuramente ottime per quanto riguarda l'ecosistema di bitcoin Perché poi ragazzi è tutto lì il discorso Cioè bitcoin è ottimo Bitcoin è stato pensato in modo intelligentissimo Il problema è che nel momento in cui entrano da un lato i liquidi Cioè diventa possibile acquistare bitcoin in valuta fiat Questo mina quella che è la decentralizzazione Perché un chiunque blackrock piuttosto che può arrivare con la propria liquidità Pam comprare tutto Comprare una buona parte di bitcoin E questo non è ottimo in ottica di decentralizzazione D'altra parte il miner Io sono il blackrock della situazione Voglio buttarmi sul mining E Fidelity, Vanguard, altre aziende, altri fondi l'hanno fatto in passato Investo su questi miner Quindi vado da questi miner o mi creo una pool di miner Mi compro 10.000 computer Tanto io posso farlo perché ho il denaro per farlo Inizio a fare mining Inizio a prendere Validare innanzitutto operazioni E poi vado a prendermi invece i nuovi BTC emessi Quindi vado a centralizzare un qualcosa che è nato per essere decentralizzato Questo ragazzi dovrebbe farci riflettere Molto importante Perché bitcoin ad oggi è nata decentralizzata Ma si sta sempre più centralizzando E man mano che entrano i player grossi Man mano che entrano gli ETF E tutta sta roba qui Purtroppo la decentralizzazione di bitcoin è a rischio E non possiamo permetterci di correre questo rischio Noi vogliamo che bitcoin torni centralizzata Che torni ad essere un qualcosa di realmente fuori controllo Rispetto ai soliti noti E quindi questo progetto potrebbe essere Ocean Una buona soluzione per iniziare a tornare Verso una decentralizzazione Una democratizzazione Nel mining di bitcoin Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti Lascia like e iscriviti se ti fa piacere Ti ringrazio per essere stato qui con me Ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti